Rinvio giudizio per quattro persone coinvolte nell'operazione che ha riguardato la struttura per disabili di Serra di Falco, nella quale i carabinieri hanno riscontrato violenze di ogni tipo, la casa gestita dalla cooperativa Gelese Azzurra. I PM della procura di Caltanissetta, nell'udienza preliminare davanti al GUP del Tribunale, hanno confermato l'intero impianto accusatorio. Nelle due strutture per disabili a Serra di Falco ci furono ripetute violenze ai danni degli ospiti e vere e proprie privazioni, oltre ad alcuni casi di abusi sessuali. Per alcuni soggetti infatti coinvolti anche l'accusa è di abuso sessuale. Dal giudice si tornerà a fine aprile per decidere sulle posizioni degli imputati che hanno optato per i riti alternativi. Gli imputati sono assistiti dagli avvocati Giovanni Bruscia, Tiziana Ragusa, Renata Accardi, Giuseppe Daqui e Amedeo Aquilino.